Lunedì 15 settembre i lavori di ristrutturazione della scuola materna Parco Casale sono terminati. Si tiene oggi la cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo anno scolastico. Quali sono i lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti all'Istituto Parco Casale di Palagianello? Innanzitutto oggi siamo contenti di aver benedetto questa bella struttura scolastica e quindi riaperta le attività scolastiche. I lavori hanno riguardato la nuova pavimentazione, i nuovi infissi, il tetto. In pratica abbiamo quasi messo a nuovolo questa bellissima struttura scolastica. Un ringraziamento va alle imprese che hanno lavorato, ai tecnici che hanno progettato e diretto i lavori. L'assessore all'editista scolastica Galante che ha seguito passo dopo passo che il tutto venisse osservato nei tempi stabiliti. Oggi possiamo dire che i nostri bambini possono svolgere la loro attività scolastica, la loro attività dell'infanzia in una struttura sicura. I genitori possono stare tranquilli perché a noi interessa prima la vita del resto umano, in questo caso del bambino, e poi tutto il resto. Quindi abbandoniamo tutte le polemiche che ci sono succedute in questo anno e pensiamo alla crescita dei nostri figli. Il dirigente scolastico è professoressa Maria Vignola. L'augurio che vuole lanciare a tutti questi bimbi per un buon inizio scolastico qual è? Di vivere al meglio il loro progetto, di collaborare insieme alle maestre e a noi perché questi bambini si avvicinano oggi, alcuni oggi per la prima volta, alla scuola e devono avere della scuola l'immagine più bella che ci possa essere. Quindi l'augurio è che possano affrontare questi primi giorni e tutto il resto dell'anno con la serenità che le nostre docenti sicuramente daranno loro.